Un weekend di grande sport e basket attende gli appassionati. La redazione sportiva di Speciale News ha preparato una tre giorni di trasmissioni e dirette. Si parte sabato alle 12.30 con Radio Sport il settimanale per la presentazione del fine settimana sportivo. Domenica diretta basket si fa in tre con una no stop dalle 12 alle 22. A mezzogiorno l'anteprima per la presentazione del turno in Serie C maschile nazionale ed i primi commenti delle partite del campionato di Serie C regionale. Dalle 17.50 la diretta scritta delle gare con attenzione per la trasferta della Castellano Udas a Napoli ed alle 22 i commenti post gara. Infine lunedì alle 18 Radio Sport la giornata per il riassunto nelle altre discipline sportive. Grazie.